...a casa vostra, Porte Nuova, provincia di Bergamo, se vò quinto a casa vostra... Qui siamo sempre a trani... ...quanto più semplice per me è battervi nel cuore del mio impero, spetti, e allora capite bene che... ...attenzione a voi che mettete a rischio migliaia delle vostre vite, perché? Perché se vò battuto là, a maggior ragione che non sono qua. In quell'occasione, tutte le cronache dell'epoca narrano che i veneziani non ci provarono neanche a toccare più la città, ...poi ci avrebbero provato molto tempo dopo, infatti a fine Quattrocento, inizio Cinquecento, Trani era stata per vent'anni dominio veneziano, cioè il governatore veneziano a Trani, data la sua importanza. Ora, quando Federico II è morto nel 1250, ovviamente il regno delle Sicilie è passato a suo figlio prediletto, ma predilusnevia, che era peraltro figlio illegittimo, perché non è nato da una delle tre mogli ufficiali del re imperatrice.